Tanti auguri a Dio, tanti auguri a Dio. Chiara Ferragni e Fedez festeggiano ancora una volta il piccolo Leone. Il figlio del rapper e della fashion blogger ha compiuto otto mesi ed ecco per lui una bella torta con candeline. Un rito a cui mamma e papà sono affezionati e non rinunciano di certo. Foto di gruppo e quadretto familiare al completo. Dopo i festeggiamenti Chiara è andata alla spacco le amiche, non amiche qualsiasi ma le più famose influencer italiane dopo di lei ovviamente. Eccola con Gilda Ambrosio, Veronica Ferraro e Chiara Biasi.